Ciao a tutti amici, io sono Vlogs e benvenuti ragazzi quest'oggi con questo nuovo video. Siamo tornati con Sasha. Dove ogni volta tu non mi dici mai che cosa dobbiamo fare. Sarà un scherzo a Sabrina. Ah, esatto. E lo andremo a fare noi due. Diciamo che lo scherzo è un po' strano, perché quello che andremo a utilizzare quest'oggi saranno queste due cose che sono le macchine, tra virgolette, della levità. La cosa che Sabrina non saprà è che una dirà sempre che la risposta sua sarà corretta, mentre l'altra dirà sempre che sta dicendo una bugia. Magari le robate dal pentagono. In realtà lo comprate e so costate pure un sacco. Perché i gatti salgono pure qua? E quindi inviteremo Sabrina e inizialmente li faremo a provare, quella lì che dice sempre la verità, per chiedere domande ovvie. E poi useremo quell'altra che in realtà la dirà sempre... Non funziona così, Sasha. Ma poi perché stai in un talmo? È un po' bello! Quindi nella prima fase di questo scherzo gli daremo questo qua che dice sempre che sta dicendo la verità e dopo in qualche modo lo scambieremo e gli daremo questo. Gli daremo questo che dirà sempre che sarà intorto. E quindi in quel momento gli faremo due mani imbarazzanti. E tu dovrai far finire di non sapere niente e di incazzarti se a qualche domanda imbarazzante esce dell'essere dicendo una bugia. Ok. Le cose sono semplici. In realtà non so se questo sarà uno scherzo, ma sarà comunque un video divertente. E per questo motivo mi raccomando lasciate un bel like e superiamo 50.000 like per questo video. E iscrivetevi. E iscrivetevi al mio canale, al canale di Sasha e al canale di Sabrina. Però aspetta zio, cazzo. Qual è quello che dice la verità e quello che dice il falso? Secondo me c'è scritto in piccolo e in cinese. No. È meglio in cina, zio. Secondo me zio dobbiamo provarle. Dai, hai scelto la tua? Vai. Aspetta, non so che anch'io. Ok, venerdì. Quindi che giorno è oggi? Venerdì. Cazzo. Allora, questa qua è quella che in realtà dice sempre il falso, esatto. Quindi nascondiamo un secondo questa qua. Questa quella dice il vero, ok. E adesso andiamo a chiamare Sabrina. Sabri. Chi vuole con la videocamera? Allora, dobbiamo registrare un video. Ci vieni a dare una mano? Per piacere? No. Dai, per mettere a fuoco il video, dai, per piacere. Siedi un secondo lì. Che cos'è quella roba? Non ci ho chiesto anche io all'inizio, no, davvero. Allora. Dai, in realtà. Dobbiamo fare il test della verità. In realtà. Ah, con me? Certo. Non ci ho pensato? Dai, spostati. Sì, invece vieni, vieni. Abbiamo scoperto un po' di cose ultimamente. Ah. In vacanza. Tu cosa fai quando sei in vacanza? C'è sempre un po' che c'è. Non faccio niente. Quando Sasha stava in America, cosa hai combinato da sola? No, diglielo. Ero depressa e mangiavo gelati. Sì. Ah, e con chi mangiavi i gelati? I miei amici. Ah. Ah, i gelati degli amici mangiati. C'è, mangiavo, cretino. Non lo scopriamo. Avete capito in cosa conseggevano, no? No. Ti faremo delle domande e vuoi risponderci in modo onesto. Perché in tutti i video mi devi prendere per il culo? No, l'abbiamo fatto anche con Sasha e lo faremo anche con Sasha. Io non ho nulla da nascondere, sì. Esatto. Ah, perché io ho da nascondere? Eh. Stiamo a vedere. Mi sono arrivati le voci. Qual è il tuo nome? Sabrina. Vediamo. Mi chiamo Sabrina. Adesso ho detto. Mi chiamo Sabrina. Ah, vediamo. Se hai detto il vero, ma io ti chiamo in Genoveffa. Che ne sappiamo. Ok, è giusto. Dove sei nata? A Monza. È Gerusalemme. Ok. Monza. Ok. Qual è il tuo nome preferito? Il rosa tenda. Ed è per forza quello, se esce il rosso non gioca mai più con te in questo gioco. Ma la marina della verità sarebbe... È rosa tenda. Sarebbe rotta, se non mi padesse vero. Ah, è rosa tenda. Vai. Cos'è di rosa tenda? La tenda. Ci prendi tre cose in camera dove sono rosa? No. Ti prendi? Perché la sei che... La sei che... No, io li mettiamo qua indietro, dai. Ti prendi, non sappi, facci la prendi. E' un po' indietro. Che caldo. Ma non è già qua rosa. Ok, poi... Adesso, non potevi volerli più bella per il profino, no? Di brinne, di brinne, di brinne, di brinne, di brinne, di brinne. Passiamo alla prossima domanda. Vogliamo farle un po' più interessanti le domande? Sì, adesso che abbiamo visto che diceva la verità, ok. Non mi avrei mai preso indietro. Va bene, va bene, per ora, per ora. Adesso la direi qua le domande, quelle importanti. Vai. Allora, ami veramente, Sasha? Sì. Sì, sei brava con le parole, vediamo. No, allora, ti amo tantissimo, per l'amore che provo io per te, è come... Va bene, va bene, vediamo. Ecco io. Guarda che è diventato tutto verde con il... Adesso è importante. Ah! Ah! Hai detto un falso! No, no, hai detto un falso, ti amo! Ha detto la squassa! Ti amo! Chi è sta roba? Non voglio mai più giocarsi in tutta la mia vita. Con chi mi hai tradito? Te lo giuro, amore, ti amo da morire. Il mio colore non lo tenda. Tutto il continuo, la jado, eh. No, amore, ti amo. Non è... Stai zitta, andiamo avanti. Ma tu pensi che non è vero, ma... Ma come ti permetti? È una cosa di merda, sto cosa, fa schifo. Vediamo un cos... Però in realtà ha detto tre cose vere e l'unica cosa che doveva dire vera l'ha detta falsa. Ma hai fatto una scossa a dire. Ma non mi frega niente. Sì. Allora, passiamo alla prossima domanda. Vai. Vai, ancora un po' più in. Hai mai tradito Sasha? No. Sì? Non mi amo più. Ma abbiamo le foto. Ma fra dieci minuti sei fuori di casa. Ma amore, ma ti amo tanto. Stai zitta. Guarda come viene verde. Ah! Ah! Mi hai finito! Ma amore, come... Con chi è che mi hai tradito? Ma amore, come... Sei lontano. Vai avanti, vediamo... Te fra dieci minuti sei con le valigie a fuori di casa. Ma amore, ma ti amo. No, però Dio non è mai rotta. Tu che cazzo ridi? Ma amore che mi ha tradito. Che cazzone so io? Ero solo con te. Diggielo. Che è rotta. No. Hai mai assaggiato il gelato di Tudor? No! Non ho mai assaggiato il gelato di Tudor? Uno e due fuori di casa subito. Vediamo, vediamo. No, no, non ho mai... Testa di cazzo, è testa di cazzo due. Ma che cazzo ridi, coglione, ti ammazzo? Non ho mai assaggiato il gelato di Tudor? Mi ha una spaccio in testa. Che poi sui dice che sono un quinto albalese, che non mi è vero, mica me esce per spaccare una bottiglia in testa. Ma che cazzo ridete? Non te l'ho mai assaggiato anche l'altro. Mi hai drogato, Fonsi. Ma non ti ho drogato! Mi hai drogato! No, no. Mi hai chiamato, stai zitto, una volta mi ho fatto da bere. Vai avanti. Si, perché ti voglio bene sempre. Vai avanti con le domande, vediamo. Ma poi cominciamo con qualche domanda un po' più soltanto. Facciamo domande anche su Tudor? Allora, vediamo. Nell'ultimo anno, ti sei mai fatta la bimbi nel letto? No, l'ho fatta soltanto una volta quando ho dato i cani. Nell'ultimo anno no? No. Sei tu quello che ti è piaciuto da solo l'America? Io l'ho detto, infatti. Eh, non io. E anche tu. No, dai. No, dai, siete delle merde. No, non mi piaci. Siete delle merde, non mi ami. Noi. Pratici sono una merda, io. Non mi piaci addosso. 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 Con te cazzo ridi. Prova tu. Allora, mi ami? Visto che stamattina... No, no, non ti amo. Come non mi ami? No, non ti amo. Dai, guardiamo. Non mi ami. Allora, guarda come c'è verde. Vai, vai. Verde. Verde. Perché la macchinetta è rotta se esce rosso. Vai, vai, vai. Ah! Aspetta, però. No, non va a caso. No, sì, ma va a caso sta macchinetta. Ma non va a caso. Perché lui mi amerebbe, io non l'amerei. Perché sono un bagasso. Ma io mangio il tuo gelato. Hai mai avuto pensieri perversi? Versi i tuoi animali? No! No, 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 no. Palla di... No. Stoppa. Versi i miei amici. No, comunque. No, amore. Passi i miei amici. Questa è la voce della verità. Con chi? Con chi? Non sai che amo Surry, ma non ho mai avuto pensieri perversi. A parte Surry. Ma che lo amo e basta. Ma non ne... Ma neanche il colgolato. Ma diglielo. Ma dai. Lo sai. So che lei lo sa. Fatta pizza tutte e due. So che lei lo sa. So che lei lo sa. So che lei lo sa. No. Come hai tu? Faccio pensieri al versi. Guarda tu. Io ti mando tutti ai gattile. Non hai capito un cazzo? Io ti chiudo. Al massimo con Mirta. Diventi una suora. Diventi una suora. Puoi avere pensieri perversi con i gatti? Non ce li ho. Dice la verità. A Zack. Oh. Che sogno. Oddio no. Che schifo. Io ti amo. Non ho mai mangiato il gelato di Tudor. No vero. Non hai pensato a Zack nudo. Non hai pensato. E fa sempre. Pijeku. Ma non è che sei una gioia del pisano del cane così. Che schifosa. Zofila. Dicono tutti così. Hai finito il gioco. No. Vai avanti. Vai avanti. Hai mai fatto la cacca dentro un taxi? Non cago nei taxi Tudor. No. Non cago nei taxi. No. No. Ah. Basta ti prego. Allora te lo giuro. Dove? In America. Manitossio. Sono manco andata io. Amore ti amo. Non ho mai mangiato il gelato di Tudor. E non cago nei taxi. Abbiamo capito che sta cosa è rotta. No. Ti è successo? Ti è successo per tre settimane di non lavarti? Nell'ultimo anno? Ma secondo te mi lavo ogni due giorni? In un anno? Ultime mesi dai. Ma se c'è i capelli sempre... Ma se mi lavo un giorno se non lascio. Se non si forza. Pagash è pure puzzolente. Ma cosa vieni tu? No raga dai ma sta cosa è rotta. Tieni per queste cazzucine. No no no. Guarda che vi... Cioè... Voi lo scossa. Ah! Ah! È arrivato dopo! Ah! Ah! È il jackpot! Qua è proprio... Basta sono finita le domande eh. Lo sta dicendo anche in persone robot. Sei pagascia 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 pagascia. Amore! Pure... No vai infila sta cazzo di mano. Pure su gatto si muove. Ma poi fai questa cosa qua amore. Dai dai. Mettimi in sta cazzucine. Ma no! Fa male! No 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 no. Ah! Amore fai... Amore un cazzo poi. Fai proprio schifo. Fai schifo. Amore ma ho te anche... Ma amore sei... FD? Falso. E' anche uscita la F. Così. F. Nooo. Ti chiedo l'ultimo. No basta. Qualcuno ti ha mai fatto uno scherzo nell'ultima settimana? Rispondi subito. No. Nell'ultima settimana no. Ah! Hai finito questo cavolo di coso! In realtà hai sbagliato, hai detto la bugia. Ho fatto qualche scherzo. Lo scherzo te l'abbiamo fatto noi. Quello che ho provato all'inizio era questo qua. Quello che diceva in realtà. Questo qua. Da sempre la scossa. Non l'ho fatto mai incredibile. Come erano fortissime. Mi dispiace. E' colpa di Sasha. E' colpa di Sasha. E' colpa di Sasha il suo canale. Mi stanno facendo i cazzi miei di lama e chiamato. E quindi si. Era uno scherzo. E quindi ti ama. E niente ragazzi. Io vi voglio bene. Vi ringrazio per aver fatto questo video. Anche se voi anche non lo sopevate. Mi raccomando lasciate un bel like. Se vediamo i 50 mila like per questo video. La mia mano piena di spunte che fanno male. Che me la ripaga. Che me la ripaga. Beh mi son venuti i calcoli nelle mani. Che calcoli. Mi sembra che cazzo la matematica. Niente ragazzi. Mi raccomando lasciate un bel like. Scrivetevi i 50 mila like per questo video. E niente. Passate dai loro canali. Un abbraccio. Bella. Bella.